La comunità albanese di Prato-La Peligna è molto integrata ed è un esempio in tutto Abruzzo per civiltà e armonia. Lo ha fermato ai microfoni di Onda DG Luan Allulli, presidente dell'associazione italo-albanese a Prato-La Peligna, l'indomani della lita in pieno centro che ha visto protagonisti proprio due albanesi. L'episodio rimette al centro dell'attenzione il tema dell'inclusione sociale. Allulli quindi prende una posizione per rimarcare che si tratta di un caso isolato. Non c'entra niente proprio con l'associazione. Questa è una cosa che è successa tra due persone adulte, due persone che a loro lavorano insieme, non lo so perché è successo questo battibecco tra di loro, che è finito in questo modo, perché la comunità albanese che vive a Prato-La Peligna è una comunità ben integrata, la comunità che è un pilota in tutto Abruzzo per l'armonia che abbiamo tra di noi. E non è mai successo un episodio del genere, ci dispiace molto, ci dispiace molto per questo che è successo oggi pomeriggio, però la comunità non c'entra niente, è stato tra due persone civili. Una dichiarazione che l'imprenditore albanese ha reso per sgomberare il campo da ogni dubbio e per non vanificare tutte le attività poste in essere sul fronte dell'integrazione. Gli stranieri residenti a Prato-La Peligna, stando all'ultimo censimento, sono 530, rappresentano il 6,7% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania, con il 47,5% dei tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguida dalla Romania, il 15,8% della Repubblica di Macedonia. Una presenza quella degli stranieri che rappresenta una risorsa per la cittadina Peligna.